E' terminato con un pareggio, Cesena-Cagliari, 1-1, un ottimo Cesena che meritava qualcosa di più. Nicola Campedelli. Sono d'accordo, anche se la pareggia è stata intensa, equilibrata, tosta. Purtroppo voglio rivedermi, penso sia stato un liscio nel calcio d'angolo, dove abbiamo poi concesso il gol loro, è un dispiacere, però la squadra è sempre stata in partita, abbiamo cercato di fronteggiare una buona squadra con le nostre armi, abbiamo reagito, anche nella finale siamo cercati di ritornare in vantaggio, però dai, ci dispiace perché quando diciamo che la fine sei in vantaggio e la pareggi è un peccato. Adesso testa l'Atalanta. Sì, adesso c'è la sosta, ricarichiamo le regie, recuperiamo un po' di giocatori e potesseremo ovviamente all'Atalanta e a continuare a fare questo campionato dando tutto a noi stessi e cercando di fare, oltre che queste buone prestazioni, anche più punti.